Nella libertà e nell'amore, giusto? Assolutamente, sì. Ribellio, libertà, amore. Voi siete divorziati. L'amore ha fallito. Secondo, mamma, tu sei New Age. Ti aggrappi ad ogni infima religione orientale capace di giustificare perché il suddetto amore abbia fallito. Terzo, papà, tu sei un borghese, uno scaltro avvocato bene. Non c'è davvero bisogno di aggiungere altro, non ti pare? Quarto, hai lasciato New York, la Mecca, il fulcro della cultura per lo Utah. Il nulla, per non cambiare nulla, anzi, per perpetuare il ciclo del denaro, del fascismo e della trivialità. Il vostro movimento di popolo con il popolo e per il popolo non ti ha lasciato niente. Vi nascondete dietro una fatina nostalgica di un droga, sesso e rock and roll. Oh, kumbaya! Io sono il futuro, sono il futuro di questa grande nazione per la quale tu, papà, con arroganza estrema, hai voluto salvare il mondo. Sentite, io ho la mia tabella di marcia. Harvard, out, Università dello Utah, in. Avrò il massimo dei voti in danneggiamenti. Io vi voglio bene, non mi fraintendete. Per voi pulsa ancora, ma per la prima volta in vita mia, ora che ho 18 anni, vi posso dire andate a fare il culo! Oh, ok.